Siamo in compagnia di Nicolo Castellino, ex atleta a campus, oggi presente per presentare questo nuovo progetto proprio in quanto ex atleta. Cosa significa essere stati un atleta a campus? Significa avere un passato in questa società, una società comunque importante nel settore giovanile e sono stato molto felice di questa chiamata, sono grato che abbiano pensato a me come atleta. È stato bello rivedere vecchi volti, vecchie persone che comunque sono stati anni importanti, anni molto belli, ho bellissimi ricordi, quindi è stato bello. La tua carriera sta procedendo a gonfie vere nei campionati nazionali di pallacanestro, cosa ti porti dietro di quegli anni adesso che sei diventato tutti gli effetti un senior? Sì, da quest'anno in poi, senior. Fa strano quasi dirlo che sono un senior, però mi porto dietro l'esperienza di due anni qua in una B nazionale, in un B di ottimo livello, due anni, dove l'ultimo anno siamo riusciti anche a fare i playoff con un'ottima annata. Mi porto dietro un sacco di ricordi.